Flamengo contro autofficina Caredda, penultima giornata a Girne B Champions Cup e Gazzetta 2016-2017. Ci troviamo allo spazio Newton, chi vince va nello spazio, inteso come Serie A, chi perde probabilmente sarà costretto, a meno di risultati clamorosi nell'ultima giornata, alla Serie B. Siamo pronti, iniziamo! Formazioni della parita Maurizio De Muro e il presidente Simone Piras. Flamengo contro autofficina Caredda, tredicesimo 0-0 e c'è il gol! Il gol dell'autofficina Caredda, proprio in questo momento. Maurizio Idda, conclusione dal limite, versante di sinistra è l'1-0. 1-0 per i biancorossi. Dopo un quarto d'ora, intanto attenzione al rodoppio dell'autofficina Caredda, ancora alla destra del portiere, questa volta ad andare a segno. È stato con la maglia numero 13 Andrea Bonu, neoacquisto della squadra biancorossa, 2-0. Attenzione al corner di Mura, pallone lungo, attenzione il gol! Il gol, grandissimo gol di Roberto Piras da fuori, nell'angolino di sinistra. La partita è riaperta, esattamente al minuto numero 21. Scano, attenzione, si porta in posizione interessante per il tiro, poi scivola perdendo un attimo, fuggente. Attenzione adesso ad Azzori, ci prova lui! Pallone alto, non di molto. Flamengo vicino al gol del 2-2. Capisce tutto Claudio Mura che adesso può ripartire sulla corsia di destra, velocissimo, Ida ha superato. Attenzione, anzi è Scano, Scano la conclusione! La palla che colpisce il palo interno di sinistra e termina sul fondo. Piras sulla destra, scambia col compagno. Pallone adesso per Ida! Ida, attenzione, limite l'area di rigore! La conclusione che è parata da parte di Michele Sata. Scano può provare la conclusione, l'effetto a piga in calcio d'angolo probabilmente. Piras, pallone per cercare il compagno. Invece, attenzione, Scano la conclusione! Pallone che fa la barba al palo destro, ma Flamengo ancora una volta vicino al gol del pareggio. Tanto attenzione a Scano, che sta letteralmente ubriacando Bulleri. La conclusione, pallone sul fondo, ma Scano si è andato a guadagnare un calcio di punizione. Adesso Scano si allunga il pallone, riesce a saltare di netto. L'avversario, pallone ancora lì, Caudiumura, palo! E il secondo ancora lui! Melis, il pallone in mezzo, a cercare Scano. Trovato Scano, un controllo alquanto difettoso. Lascia poi per Azzoni la conclusione, il pareggio! Marco! Azzoni, 2-2, meritatissimo. Pallone alla destra di Antonio Piga. Pareggio meritatissimo. Quando siamo giunti esattamente al quindicesimo minuto, Simone Piras. Pallone in mezzo, conclusione, la deviazione provvidenziale. Bulleri pronto al corner dalla sinistra. Palo bella, bellissima! Tutto è solo, di testa Gianfranco Picci, 6 di Vora. Il gol del 3-2. Ida. Pallone per Simone Piras. Intelligentemente per Bulleri, limita l'area di rigore. Pallone in mezzo, attenzione, tutto è solo! Che cosa ha tolto? Michele Satta! Ad Andrea Busonera, un rigore in movimento! Finisce così, 2-2. Un tempo per parte. La fotografia di questa partita è un punto meritatino per l'autofficina a Caredda. Meritatino anche per il Flamengo, che alla luce di quanto creato, probabilmente ingoia il rospo dopo questo pomeriggio. Anche se, va detto, l'autofficina a Caredda vinceva col punteggio di 2-0. Allora, siamo qui con Francesco Scano del Flamengo, uno dei protagonisti di questa partita. Abbiamo scelto tre migliori in campo di questa partita. Tu sei uno, l'altro è Danilo Farci, tuo compagno di squadra, che aveva iniziato malino, poi si è spostato a centrale e ha fatto qualcosa di molto buono. L'altro, chiedo scusa, è Fabrizio Schiru, dalla squadra avversaria, che al centro della difesa ha disputato un partitone clamoroso. Francesco, un punto per parte, si decide tutto all'ultima giornata, qualche rimpianto per quei due pali, anche se poi loro nel finale hanno preso una traversa, però a livello di occasioni create non c'è stata partita. Sì, è stata una bella partita combattuta, da tutte le due le parti, alla fine secondo me il pareggio è giusto, perché comunque due pali noi, due traverse l'oreo, quindi alla fine va bene, un punto va più che bene. Ci eravamo persi allora nel periodo in cui non eravamo... Ci avevano tre punti oggi, però è andata così, ci rifaremo la prossima. Senti Francesco, un punto che può essere anche, consentimi il termine, una vitamina per il Master, visto che comunque sia arrivavate, ma anche per il sabato, perché arrivavate da un periodo nel quale i punti non arrivavano neanche sotto preghiera. Oggi è arrivato un punto prezioso, forse tre punti sarebbero stati più meritati, non lo so, però intanto il morale si può rialzare, visto quello che avete espresso oggi. Sì, sì, voi tanti infortuni, ragazzi che non sono potuti scendere alle partite, quindi a volte formarsi in rimaneggiate, abbiamo fatto un po' di... il martedì, soprattutto il Master. Qualche punto in meno di quello che si poteva fare, però ci riprenderemo. Francesco, a questo punto ripartite tra poco con la Serie B Master, dovrebbero uscire i calendari tra stasera e domani, ma soprattutto a questo punto diventa fondamentale la partita di sabato prossimo contro il Capo Orn, se non vado errato. Perché ricordiamo che Capo Orn o Ecosilam, perché ricordiamo che chi fa in Serie A ha chiaramente più possibilità di andare a giocare la finale nazionale allo Stadio Olimpico di Roma, poi a giugno. Ed è un palcoscenico, insomma, che perdersi sarebbe un peccato. Sì, dai, ci proviamo, ci proveremo. Perfetto, grazie mille Francesco e buon fine settimana, grazie. Ciao.